Per il Campobasso la trasferta di Matelica viene inquadrata come una sorta di partita spartiacque. È innegabile che la società e lo stesso ambiente dei tifosi sperino sempre in un'ascesa clamorosa di classifica. In questo senso molto, quasi tutto, passa proprio dallo stadio di Matelica. I Rosso Blu hanno vissuto una settimana all'insegna degli allenamenti, ma anche delle riflessioni dopo gli episodi legati alla partita contro Pineto. Un motivo, purtroppo, per il Campobasso che è stato troppo ricorrente, questo delle rimonte nel corso della stessa gara, ed è capitato in stagione almeno in quattro circostanze. Cudini va a Matelica con il dubbio Candelori, ma con la certezza di San Severino che scalpita in caso di forfè del primo. Le caratteristiche dei due giocatori sono diverse, i Candelori ha più gamba e probabilmente pure un giocatore più eclettico. San Severino, invece, è un elemento che predilige maggiormente l'impostazione di gioco. Ad oggi l'attacco sembra davvero irreprensibile, da segnalare che quando non realizza Cogliati, gli altri lo sanno rimpiazzare in maniera più che dignitosa. Si vede a Danilo Alessandro, giunto a quota sette gol stagionali, ma anche lo stesso Zammarchi, quattro reti in campionato, che da un classe 2000 sono un bottino di tutto rispetto. Dall'altra parte c'è il Matelica di Colavitto, che domani riporterà in panchina l'attaccante Valenti, che reduce da uno stiramento al bicipite femorale destro. Per la punta marchigiana si è trattato di uno stop di due mesi. Colavitto si è lasciato sfuggire con qualcuno dei suoi collaboratori, che avrebbe preferito una vittoria dei Rosso-Blu domenica scorsa contro il Pineto. Ad ogni modo la critica appare abbastanza spaccata sul discorso primato. I numeri sono innegabili. Per qualcuno il primo posto è un gioco per tre squadre, Notaresco, Matelica e Campobasso. Per altri osservatori appassionati, invece, tale discorso può essere un po' più circoscritto. Considerato il vantaggio ad oggi in possesso del Notaresco, la cosa sicura è che saranno 12 giornate molto appassionanti. Nonostante la distanza e la percorribilità non proprio agevole, saranno in tanti a supportare il Campobasso nella trasferta marchigiana. In tanti si stanno preparando dal capoluogo, da cui le ore sulla tabella di marcia dovrebbero essere quasi quattro, ma ne approfitteranno anche in molti Campobassani fuorisede per raggiungere Matelica, centro di circa 10.000 abitanti dell'entroterra maceratese. Allo stadio Giovanni Paolo II di Matelica è stato chiamato per dirigere, a partire dalle ore 14.30, il signor Lovison di Padova.